Signori miei, soc, soc, alla camelà, alla camelà. Cos'è a camelà, cos'è? Perché quando Renzi parla l'arabo non riesco più a farlo. Lo so, ma anche lui. Strano perché con la lingua sono sempre dato forte. Va bene. Quando ancora c'avevo la mia. Sì, non serve comunque, lasci stare. Vuole che faccia Calenda? No, non faccia l'imitazione. Voglio le armi con le 5 stelle in maniera saria. No, guarda, Calenda non ha mai detto così, eh. Lo so! Stia calmo. No, stia calmo. Perché io sono grillino dentro. No, ma non è grillino. Ma cosa devo fare per farmi reggere? Ma niente, guarda. Ci resto me stesso, chi vuole che mi voti? Ma guardi, non ha poi tra l'altro il timore che alla fine il Parlamento ne sceglierà un altro? Lei alluda il fatto che potrei essere trombato. Eh, può succedere, no? Magari. Eh? Almeno a sto giro è gratis. Ah! Ma fango!